Promette battaglia il Codacons Cilento e lo fa in merito all'erosione costiera e al diritto dei cittadini ad avere una spiaggia pubblica. Il Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha ben 100 chilometri di coste tra le più belle della Campania e del nostro paese. Uno straordinario patrimonio che di anno in anno registra un costante restringimento. A pagare però non possono essere più i cittadini che hanno il diritto di utilizzare la spiaggia pubblica liberamente. Purtroppo negli ultimi anni le spiagge si sono ristrette ma quello che è rimasto rappresenta un enorme indotto economico, spesso oggetto di contesa tra imprenditori che non tengono nella giusta considerazione il diritto all'accesso e fruizione della spiaggia pubblica da parte di tutti i cittadini. Il problema dell'erosione costiera nel Cilento è un problema tavico, afferma Bartolomeo Lanzara del Codacons, perché le responsabilità sono molteplici e vanno da un'edificazione selvaggia e disordinata delle nostre coste cominciata negli anni 60, troppo spesso tollerata da chi doveva vigilare all'uso indiscriminato delle risorse naturali, come accaduto con l'estrazione di inerti lungo le foci dei fiumi o direttamente sulle spiagge. Per limitare l'erosione continua Lanzara occorrerebbe un intervento della regione più incisivo per salvaguardare la costa cilentana. Troppi interventi si sono alternati nel tempo senza risolvere il problema. Secondo noi andrebbe aperta una discussione e indagine tecnica per analizzare bene gli studi e soluzioni già prospettate dal CNR, Università e Autorità di Bacino e finalmente contrastare seriamente il fenomeno dell'erosione delle spiagge che stanno scomparendo. Secondo noi una soluzione adeguata ai problemi legati alla fruizione della spiaggia libera dovuta all'emergenza Covid-19 non è più rinviabile, sottolinea Lanzara. Le segnalazioni che ci sono giunte riguardano i comuni costieri del Cilento che per gestire meglio e senza costi l'emergenza sanitaria stanno valutando di affidare le spiagge agli stabilimenti balneari con ampliamenti a discapito della spiaggia pubblica in modo eccessivo rispetto a quello che prevede la legge, un rischio che deve essere assolutamente evitato perché le spiagge pubbliche sono destinate a servire i bisogni della collettività.